Dalla Lombardia alla Piemonte con l'appello del Governatore Roberto Cota al Ministro dello Sviluppo Economico Flavio Zanonato in tema di competitività delle imprese. Servono iniziative per rendere più competitivo il sistema delle imprese. È questo quello che ha dichiarato il Presidente della Regione Piemonte, Roberto Cota. Non possiamo pensare di trasformare il Piemonte in qualcos'altro perdendo il primato dell'industria. Un appello che il Presidente Cota rivolge al Ministro dello Sviluppo Economico Zanonato. Il Ministro Zanonato ha fatto un'analisi anche obiettiva di quella che è la situazione. Adesso si tratta di fare le cose. Noi abbiamo bisogno di mettere in campo delle misure che facciano riprendere il nostro sistema produttivo. Dato per scontato, perché oggi abbiamo sentito questo da tutti, che forse si capisce che la politica del rigore imposta dall'Europa fino ad oggi non ha portato a risultati. Bisogna varare delle misure di politica fiscale e industriale per aiutare il sistema produttivo. Bisogna anche difendere gli interessi delle nostre aziende. Perché quando sento parlare di dazzi sui vini, ci provino soltanto a dirlo la seconda volta e devono beccarsi un cazzottone in faccia. Nel senso che dopo tutto quello che noi abbiamo subito con le nostre aziende tessili quando siamo stati invasi dei prodotti cinesi nel disinteresse generale. Perché allora bisognava ovviamente agire in maniera diversa e l'Europa avrebbe dovuto agire in maniera diversa. Questa è una fase di crisi, però è una fase che può portare a ridisegnare la geografia, i contorni della nostra industria. Dobbiamo giocarci la partita nel modo migliore. Ci sono diverse cose, per esempio anche le infrastrutture. Infrastrutture di investimenti sono un volano per l'economia e sono anche un pezzo importante per il disegno strategico del Piemonte di domani. Il terzo valico e la TAV sono le due arterie, proprio le coronarie del cuore, del nostro cuore pulsante, del nostro cuore produttivo. Non dobbiamo sbagliare. Aggiungo che la TAV senza terzo valico conta meno, molto meno, conta poco, quindi dobbiamo ragionare proprio in un'ottica non di contrapposizione ma di sinergia.